è un piacere vedere che una persona intelligente come lei sembri un fascista ti posso dare una brutta notizia questa non è buona per bloggare non hai lo schermino orientabile io non mi voglio vedere mentre faccio il blog fatti cazzi tu hai poi mi riprendo così facciamo ciao ragazzi benvenuti sui miei canali lasciate un like iscrivetevi e un commento sapevi che questo incesso qua ha il l'idea incorporato per sui tengo la pressione spingi proprio oh oh ah 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 dio con E scappa Basta spegnilo Guarda che succede a urlare guarda Guarda che succede a urlare guarda Guarda che succede a urlare guarda